Ci sono un casino di gente che oggettivamente sono dei provocatori, perché cazzo l'eroina è tagliata fuori secondo me dal movimento popolare e da tutte le situazioni rivoluzionari, perché uno che buca di rivoluzionari e di carica non ha niente. Il progetto straordinario vive oggi, nelle nostre teste, nei nostri gesti, nelle trasformazioni nel conflitto. È un progetto che fa tutt'uno, con una forma dell'esistenza che si trasforma. L'eroina è un monopolio dei fascisti, perché mantendo l'eroina sul mercato distruggono tanti giovani che un giorno potrebbero lottare contro questo sistema. E' un tipo che bucava solamente, l'hanno preso e l'hanno venato, non l'hanno neanche fatto parlare e dire, senti ma tu perché buchi? Che cazzo c'è che ti manca? Cioè, buchi, c'è un motivo che buchi, no cazzo, c'è un motivo che buchi. Cioè, questo tipo qua ha buccato l'eroina per un anno, dopo un anno non ce la faceva più. Stava in un manicomio rinchiuso con la vagi del sangue ogni tanto. Però c'è gente, cazzo, che è lì, è lì che sta scoppiando d'ero, che non ce la fa più, cazzo, che sta mai, tu che cavolo fai? Lo butti fuori. All'inizio degli anni 70, dalle piazze italiane spariscono improvvisamente anfetamine, hashish, marijuana, morfina e si impone un'unica droga, l'eroina. Diffusa inizialmente a basso prezzo, la droga killer diventa ben presto una piaga sociale. Centinaia di migliaia di tossi condipendenti fino a mille morti all'anno per overdose. Tra loro molti giovani militanti nei movimenti della contestazione, spesso etichettati come sbandati dai benpensanti. Fin da subito tuttavia l'inarrestabile diffusione dell'eroina è stata considerata una sorta di trappola. Questi sospetti trovano adesso una parziale conferma in documenti emersi dagli archivi americani della CIA e dell'FBI. Quella che vi raccontiamo oggi allora è la storia inedita di un'operazione segretissima, nome in codice Blue Moon, una vera e propria strategia di penetrazione dei movimenti di opposizione ispirata dai servizi segreti occidentali. Si è accertato che già prima del 1968 la CIA aveva inserito propri uomini nel movimento studentesco statunitense cercando di inserire droghe psicotrope tali da costringere o spingere i giovani a intraprendere, a diminuire l'impegno politico del movimento studentesco. È stata concepita l'idea di distruggere dall'interno, di penetrare in questi gruppi diffondendo al loro interno in modo massiccio alcuni tipi di droghe. Il primo tassello della nostra storia parte da Roma. È il 20 marzo del 1970. Giancarlo Servolini è il capitano dei carabinieri che coordina la retata sul barcone. È stato una fonte del SID, Servizio Informazioni della Difesa, con il nome di copertura Gianna. Un nucleo del reparto antidroga dei carabinieri fa irruzione in un barcone ancorato sul Tevere, dove alcune decine di giovani stanno trascorrendo la serata. L'accusa, rivelatasi poi infondata, è perentoria. Si drogavano tutti. Il barcone fu un'operazione troppo esplicita, troppo smaccata, troppo bugiarda, troppo infame e troppo ben organizzata a livello mediatico per ritenerla casuale. Lì fumava qualcuno, un genitore denuncia, arrivano i carabinieri. No, dicevano 100 carabinieri al servizio di Servolini che li comandava e un giornale che dai giorni precedenti faceva il battagio per fare che cosa? Non per trovare i chilogrammi di hashish, ma qualche mozzicone di canna con dentro una quantità irrisoria di hashish. E la cosa sembrava assolutamente bizzarra, diciamo, una simile quantità, una sorta di simultaneità. E poi ci colpì, diciamo, soprattutto l'offensiva dei giornali di destra, che strumentalizzarono a fondo questo episodio, che però poi so che successivamente si è scoperto fosse completamente destituito di fondamento. Quindi una sorta di caso fabbricato all'arte. Non chiamiamolo appunto complotto, ma sicuramente una strategia pensata e in qualche modo a diverso livello coordinata. Dal giorno successivo al Blitz e per i sei mesi successivi, sulla stampa nazionale compaiono circa 10.000 articoli sulle droghe. Un accanimento mediatico senza precedenti, che prepara nell'opinione pubblica la strada a un nuovo stereotipo giovanile. L'effetto barcone in Italia genera una vera e propria psicosi nei confronti di una determinata tipologia di persona. Il capellone. È esattamente in questo momento che nasce l'equazione capellone contestatore, che d'ora in poi verrà associato dai quotidiani all'immagine del tossico con la siringa, imprevedibile e criminale. C'è un tentativo, secondo me, di, fra virgolette, di sporcare il movimento del 68, cioè il rinnovamento legato al movimento studentesco, diciamo, no? Perché buttandoci sopra questo velo di droga si dice che i giovani non è che c'erano un'idea di rinnovare il mondo, di cambiare la politica, no? Di fare, ma in realtà erano degli imbecilli che poi, insomma, si dilettavano con le droghe, no? Cercando paradisi artificiali, eccetera, eccetera. Una sorta di sovradimensionamento del fenomeno, proprio a fini allarmistici e a fini, come dire, di invocare una stretta autoritaria, una stretta d'ordine, una stretta repressiva, credo sempre con la finalità di sbarrare il più possibile la strada alla crescita e allo sviluppo dei movimenti. Certamente la polizia difendeva il perbenismo di una borghesia tranquilla che aveva paura per i propri figli e pensava a lasci. È evidente che in tutto questo poi comincia a profilarsi l'ombra del compromesso storico. Cioè il più grosso partito comunista dell'Occidente, il PC, che comincia a dire, dopo il colpo di Stato in Cile contro Aglieri, il fatto da Pilosieri nel 1973, bisogna che in qualche modo uniamo le nostre forze con la democrazia cristiana. Non mi meraviglia che è in quel periodo, prima metà degli anni 70, che comincia, ce ne accorgiamo da vari segnali, è una diffusione larga dell'eroina. Il delicatissimo ruolo che l'Italia ricopriva all'interno dello scacchiere internazionale può spiegare ciò che di lì a poco sarebbe successo. Accanto alle bombe viene messa a punto una nuova strategia volta all'introduzione, controllata dall'alto, di sostanze stupefacenti negli ambienti giovanili, come l'eroina. È questo il nuovo e terrificante orizzonte dei servizi segreti d'oltreoceano. L'Italia apparteneva a uno schieramento politico internazionale. Il mondo era diviso in due blocchi, il blocco comunista e il blocco occidentale. L'Italia sta nel blocco occidentale e è anche un paese cerniera perché confina con l'Ecoslavia, il confine orientale italiano ha Tito, cioè ha il comunismo, anche se è un comunismo nazionalista separato da Mosca, eccetera, in casa. Quindi l'ossessione di tutto quel periodo è evitare che i comunisti vadano al governo con metodi leciti o illeciti. La guerra fredda è una guerra globale in cui non bastava ottenere una superiorità militare ma era necessario condurre contro il nemico una guerra psicologica che servisse a penetrarlo e indebolirlo. Questo tipo di attività, la guerra psicologica, fu condotta in Italia dall'Aginter Press, che formalmente era un'agenzia di informazione, ma in realtà era una centrale operativa dei servizi segreti occidentali con sede a Lisbona, attiva tra il 1962 e il 1974. In realtà non era un'agenzia di informazioni, ma una struttura parallela di tipo anticomunista che aveva al suo interno esperti di ogni tipo di guerra ortodossa e non ortodossa che consentissero di compiere azioni in cui ufficialmente gli stati non dovevano figurare. Agivano praticamente dovunque ci fosse necessità di combattere il comunismo senza che i governi o i servizi segreti dei paesi occidentali comparissero in prima persona. E la loro tecnica non era solo insegnare ai militanti di estrema destra italiani come si preparava una bomba, come si faceva saltare un binario, ma come si organizzava un finto gruppo maoista o come si entrava in un gruppo maoista per spingerlo ad azioni pericolose, screditarlo e creare quello che nei documenti della Ginter Press veniva definito il caos. Un caos però che serviva al potere, che serviva ai governi per mantenere lo status quo politico dell'epoca e quindi in sostanza per afforzare il campo occidentale. Un agente segreto francese, Roger Delouette, viene sorpreso in America mentre tenta di introdurre in un porto del New Jersey 44 kg di eroina per un valore di oltre 10 miliardi. Intanto Delouette insiste nel dire di essere un uomo dello SDEC e di avere agito per ordine del servizio segreto francese. Anche in Francia, negli stessi anni, uno tra i giudici più autorevoli di Parigi indaga per capire se lo SDEC, il servizio segreto francese, possa aver avuto parte in qualche operazione dove l'eroina fosse stata usata con finalità non ancora chiare. Giudice Roussel, vorrei chiederle se il traffico della droga può avere altri fini oltre quello del guadagno. Sì, capisco quello che lei vuol dire. Lei probabilmente ha sentito dire che certi servizi segreti sono accusati di aver partecipato al traffico della droga. Si tratta di un caso sul quale sto attualmente indagando. Posso però dirle che, in generale, si può sempre considerare che un delitto venga commesso per un fine diverso da quello del delitto stesso. La guerra psicologica è una vera e propria strategia militare elaborata fin dalla Seconda Guerra Mondiale dagli Stati Uniti. Fa parte della guerra non convenzionale e di tutte quelle strategie occulte, illegali, volte al controllo e alla manipolazione degli oppositori con tecniche invasive. La guerra non si combatte soltanto con i fucili, con le armi o con la bomba atomica, ma anche con la controinformazione, con la disinformazione, con la propaganda, con la penetrazione culturale. Questa è guerra psicologica. Ce n'è un esempio eclatante nella cosiddetta strategia della tensione italiana in cui accanto alle bombe si è lavorato per anni per creare confusione. In Italia esistono uffici guerra psicologica della Nato in due città, Verona e Vicenza, il cui ruolo è anche sovraordinato rispetto a quello dei servizi. Il range di impegno e di attività di questi due uffici di guerra psicologica era molto ampio, non escluse appunto le stragi. Ma se la strategia della tensione getta il paese in ginocchio, il risultato finale non porta alla sperata stretta repressiva e al colpo di Stato anticomunista. La strategia delle stragi non ha pagato perché tra il 69 e il 74 il partito comunista e tutta la sinistra sono aumentati di moltissimi milioni di voti. A quel punto finalmente gli americani hanno capito che avevano sbagliato. Come se qualcuno si fosse accorto che non essendo stato sufficiente la strage di Piazza Fontana, non essendo stata sufficiente la repressione capillare, poliziesca eccetera, non essendo stata sufficiente le altre stragi, perché poi c'era la strage di Brescia nel 1974, la strage dell'Italicus nel 1973 e quindi questo stilicidio di stragi di Stato che sono andate e gli assassini politici di giovani studenti da Milano e in varie altre città, Pisa, violenze a Roma, violenze a Napoli, violenze a Palermo con il movimento degli studenti e dei lavoratori, tutto questo non essendo stato sufficiente ci sia stata una sorta di, non dirò complotto, ma di strategia sicuramente organizzata, di certo non spontanea, per utilizzare anche una sorta di assalto dall'interno e quindi tramite l'eroina e i suoi effetti devastanti, diciamo, cercare di distruggere le energie positive di trasformazione, come dire, portandole a morire su se stesse, una sorta di autodistruzione sapientemente provocata. Negli Stati Uniti, nei ghetti americani è successo, il movimento delle pantere nere è stato distrutto con l'eroina, questo è stato scritto e sufficientemente documentato, diciamo, sono anni in cui l'introduzione massiccia di eroina fra queste persone sparpaglia, completamente disperde una rivolta politica di grande momento e di grande rilievo. C'è uno dei professionisti, delle menti raffinatissime che inventano, immaginano queste operazioni e l'Italia è stata per tanti anni il laboratorio, essendo un paese di frontiera tra Oriente e Occidente, di una serie di questi esperimenti. In Italia l'esperimento ha un nome, Operazione Blue Moon, un piano avviato proprio mentre la stagione delle stragi sembra scemare. L'obiettivo di Blue Moon è chiaro, la droga come arma contro gli oppositori. Questa operazione segretissima viene concepita per la prima volta nel 1972, nel corso di una riunione di altissimo livello in Francia, sui Monti Boschi. Chi ne ha parlato è una persona sicuramente all'interno delle grandi strategie di quell'epoca, che è Roberto Cavallaro. Racconta che in Francia, durante un campo di addestramento con dei militari, gli fu spiegato che stava partendo in Italia questo progetto Blue Moon, cioè la droga come arma contro gli oppositori. Roberto Cavallaro è giovane ma molto sveglio. È un collaboratore dei servizi, ha fatto parte dei nuclei di difesa dello Stato. Oggi è l'unico vero testimone diretto dell'operazione Blue Moon. Dell'operazione Blue Moon se ne è parlato nell'autunno del 1972. Io avevo 22 anni. In questa riunione erano presenti più soggetti appartenenti a strutture analoghe sia dell'Europa occidentale e, con nostra grande sorpresa, anche persone appartenenti all'area, oltre alla cortina di ferro, quindi nel patto di Varsavia. Trovarsi presenti anche soggetti che erano dell'Europa orientale, qualche perplessità l'ha fatta sorgere e legata alla perplessità c'era la necessità di capire a che titolo fossero lì. Questa singolare riunione tra servizi segreti ha un argomento di discussione ben preciso, ovvero come annientare gli avversari, i contestatori e qualunque forma di dissidenza. L'argomento di discussione erano le opposizioni. Credo che questo fosse anche il compito della sicurezza, sapere esattamente quali sono le opposizioni, quindi conoscenza delle opposizioni, capacità di limitare i danni dell'opposizione nei confronti dell'equilibrio statuale del momento. All'interno del blocco occidentale non vigeva la prassi che vigeva nel blocco sovietico, vale a dire nei confronti degli oppositori, fucilazioni e gulag, o nella Cina dove c'erano fucilazioni e campi di rieducazione. Tutto questo non poteva essere applicato evidentemente nel blocco occidentale. Quindi l'opposizione andava regolata e, se vogliamo, disciplinata per così dire, in maniera diversa. Uno dei metodi di cui si è parlato è stato quello che rientrava nel cosiddetto piano Blue Moon, vale a dire la introduzione regolata, regolata non per legge ma disciplinata piuttosto da accordi di intelligence, di sostanze sufficienti, da destinare allo pubblico giovane, evidentemente, per diminuire la capacità di resistenza psicologica nei confronti di chi deteneva comunque la gestione del paese o dei paesi in questo caso. Non era un'idea di dire, signori, da domani cominceremo a fare questo o ci sarà chi comincerà a fare questo. Era di fatto una ipotesi che aveva una ragionevole possibilità di essere stata utilizzata. Dobbiamo togliere l'idea di servizi di sicurezza che devono essere fondati sullo spirito cavalleria. Il servizio di sicurezza è fondato su un principio che il nemico va comunque eliminato. L'eliminazione del nemico, con qualunque mezzo, anche con quello più subdolo, diventa prassi consolidata. La posta in gioco è altissima. Sui monti vosgi i servizi segreti parlano apertamente di un'ampia diffusione della droga tra i giovani contestatori, al fine di indebolirne la forza rivoluzionaria. Questo, peraltro, è quello che è successo fin dal 1968, con l'introduzione controllata di stupefacenti negli ambienti della contestazione. Basti pensare che nella Convention Hippie di Chicago del 1969, che finì in guerriglia, il 17% dei manifestanti erano in realtà agenti dei servizi segreti infiltrati dall'FBI. Infiltrazione che prosegue per tutti gli anni 70, con uno strumento in più, quello dell'eroina, strategia che trova un terreno fertile perché i giovani dell'epoca erano inclini al consumo delle droghe e a quella ricerca sfrenata della libertà attraverso nuovi stili di vita. Nascono in tutta Italia movimenti culturali di rottura, che contribuiscono a rinforzare il mito americano degli hippie di Berkeley e Vostok, la Beat Generation. Kerouac, Huxley e Timothy Leary incarnano quella indolenza che spingerà milioni di giovani a una forsennata sperimentazione di qualsiasi droga. Un progetto straordinario vive oggi, nelle nostre teste, nei nostri gesti, nelle trasformazioni nel conflitto. È difficile, se non impossibile, inventare un complotto a tavolino dal nulla. Cioè è impossibile farlo se non si ha l'intelligenza, e questi grandi strateghi hanno spesso questa intelligenza, di cogliere quello che si sta muovendo nella società, di aggrapparsi ad un fermento, di ingigantirlo, di piegarlo e di indirizzarlo in una certa direzione. Credo che soprattutto nella fase nascente del movimento 68, 69, 70, prevalente forse l'aspetto della liberazione, della emancipazione. Quindi è licito ed è degno di essere sperimentato tutto ciò che fino a ieri era proibito. C'era un fermento generazionale nel quale era facile inserire anche lo sballo, nel senso che dicevamo prima, cioè nel senso nobile di strumento che aiuta un individuo, una comunità a raggiungere un'area superiore della conoscenza. Io ricordo a Bologna nel 1977 ci andavo da giovane studente, appunto, i disegnatori, gli artisti, eccetera, che giravano con la siringa di eroina in tasca perché l'eroina era chic. Allora sì, certo, sicuramente, propagandare uno stile di vita estetizzante e dissolutorio come quello dell'eroina, ma nello stesso tempo contrabbandarlo per stile di vita rivoluzionario, può essere che il germe di un'idea sia nato in qualche oscuro circolo. Però, come dire, chi lo faceva gli ha dato una mano enorme. In breve tempo si afferma una strategia già realizzata negli Stati Uniti, incoraggiare i giovani al consumo della droga. L'annello di congiunzione tra Stati Uniti e Italia è Ronald Stark, uomo camaleontico, riesce ad avere ben 20 identità diverse. Stark è amico di Timothy Liri, leader e guru dell'LSD e del movimento psichedelico. Stark ha un ruolo fondamentale nella diffusione dell'LSD e nell'attuazione del piano Blue Moon. Ronald Stark era uno strano americano. Se vedete le foto si vede che era un americano con i capelli lunghi, che può sembrare un contestatore, ma di fatto non lo era perché era un uomo del sistema, un uomo dei servizi segreti. È comparso in Italia dopo aver avuto un passato nel suo paese di collegamento con gruppi di carattere pacifista e contestativo, c'era uno che si chiamava la fratellanza universale, gruppi che predicavano la pace ma anche l'uso delle droghe e si era presentato loro come una persona che in base ai suoi metodi chimici e agli apparati di cui disponeva, era in grado di rifornire di grandissime quantità di LSD a prezzo basso e in modo molto ampio. Lui aveva questo collaboratore in Belgio che dirigeva questa fabbrica di LSD che si disse che produce la metà della produzione mondiale. A un certo punto Stark compare in Italia, era un uomo che aveva tantissime identità, sapeva presentarsi come quello che non era, aveva molti documenti, grandi capacità di colloquio, non si capiva bene a dove venisse ma offriva grandi possibilità di azione. Secondo note del SISDE, il servizio segreto del Ministero dell'Interno, Ronald Stark si sarebbe infiltrato in vari gruppi extraparlamentari di estrema sinistra. E' stato arrestato o si è fatto arrestare e si è fatto mettere nella stessa cella con Curcio e forse anche con Franceschini. Avvicina sia elementi delle pregate rosse, sia elementi di un gruppo anarchico come azione rivoluzionaria. Per l'attività che ha svolto possiamo dire sia l'espressione, sia il realizzatore del nostro paese di quel piano Blue Moon di cui abbiamo detto che appunto era partito qualche anno prima. Con l'arrivo di Stark in Italia si registrano una serie di eventi che appaiono più che semplici coincidenze. Siamo a due anni di distanza dal finto blitz sul barcone del Tevere, l'episodio che fa da detonatore al fantomatico allarme droga. Il centro di tutto è ancora una volta a Roma. E qui vari tasselli della nostra storia iniziano a combaciare. 1972, con l'approvazione della legge Balsecchi, all'improvviso l'Italia mette al bando le anfetamine da tutte le farmacie, un provvedimento che arriva con 34 anni di ritardo rispetto a tutta l'Europa. Nello stesso anno si registra il picco di arresti contro la marijuana, che per vari mesi è introvabile. A colmare questo vuoto nelle piazze romane arriva una nuova sostanza. È distribuita gratis e di ottima qualità. È la morfina. 1973, sulla prima pagina del Corriere della Sera, compare una notizia apparentemente inspiegabile. L'ambasciata americana avverte i turisti statunitensi di non prendere pastiglie o droghe nelle piazze del centro, perché sono regalate da spie delle forze dell'ordine. 1974, parte l'offensiva delle narcotici con oltre 2000 arresti contro la marijuana. Anche la morfina sparisce improvvisamente dalle piazze. Il giro cambia. È il momento dell'eroina. I tossicomani non hanno scelta. Sono stati costretti a passare dall'anfetamina alla morfina e ora finiscono nel vicolo cieco del buco. Roma. È inverno. L'inverno bianco dell'eroina. L'esperimento comincia in piazza Campo dei Fiori. I primi spacciatori di piccolissime dosi di eroina, tra l'altro di buona qualità, erano tre coatti, un po' ladroni, ladroncoli, piccoli spacciatori di sostanze leggere che cominciano perché provano l'eroina e se la fanno, cominciano a avere bisogno anche di dosi di eroina e poi alzavano qualche lira e cominciano loro a piazza Campo dei Fiori a spacciare. Non c'era nessun richiamo a malavita organizzata che esisteva a Campo dei Fiori rispetto ai furti, alla ricettazione. Esisteva un reticolo, non c'era ancora un fornitore di eroina identificabile in Campo dei Fiori. Da dove arrivava? Ora la domanda che noi ci siamo posti era questa, in che misura, con quali mezzi e chi avrebbe poi dato concreta realizzazione a un piano di diffusione, sicuramente chi ha dato a distribuire, doveva averne un ritorno economico, qui ed essere assolutamente inconsapevoli del perché della distribuzione. L'eroina arriva a Roma con quelle modalità, arriva ed è spacciata in piccolissime quantità da coatti romani, i quali non c'entrano niente con il traffico. Inguituati i primi spacciatori, ne individuammo tre, li fotografammo con un escamotace sotto la statua di Giordano Bruno lì intorno. Chiedemmo ad un'attrice che divenne famosa per un film di Federico Fellini, di posare per un finto servizio di moda e la collocammo in almeno tre giorni di ripresa per riprendere i tre piccoli spacciatori di eroina. Al terzo giorno fummo, almeno io, identificato da amici dei coatti che spacciavano, fino a che si presentò e dialogammo quanto serviva, colui che faceva un po' da portavoce ai coatti che spacciavano eroina. Ci pregò spiegandoci perché di non accanirci contro i piccoli spacciatori, perché il problema era altro. Il problema era che era un'operazione che andava molto al di sopra di loro, nella quale c'entravano i servizi. Noi sapevamo che, come nel 68, come nel Brigade Rosse, la storia di questo paese è una storia che vive di infiltrati. Noi sapevamo che a Campo di Fiori c'erano dei carabinieri, dei carabinieri coatti per quanto riguardava la piccola malavita e quindi a motivo di rinere che anche per il primo spaccio di eroina ci fossero i tramite con i coatti magari ricattabili fossero elementi dei servizi se non infiltrati dell'arma dei carabinieri. A Roma, durante tutto il 1975, ci fu un solo sequestro di un ingente quantitativo di eroina. Il commissario che lo effettuò è Ennio Di Francesco, che fu allontanato dalla mobile il giorno stesso, subendo il blocco delle indagini in corso. A Roma sono arrivato nel 1974. Riusciamo ad arrestare diverse persone e da sequestrare un discreto quantitativo di eroine. Erano tre boccioni, ma era un'eroina particolarmente forte, ben fatta. Non ho potuto neanche seguire le analisi, quindi se lei mi dovesse chiedere quanta era la droga. Penso che fosse un quantitativo abbastanza, probabilmente un paio di chili, perché vengo letteralmente trasferito. L'indagine viene chiusa, nel senso che si va lì, si fa un'irrusione, che termina con la denuncia del titolare del bar perché non era presente in loco, quindi con una contravvenzione amministrativa. L'allontanamento dalla mobile appare inusuale, visti gli ottimi risultati investigativi, rendendo lecito il sospetto di un intervento dall'alto. Non ho nessun elemento per poter dire una cosa. Devo ritenere che chiunque lavori, anche a livello di servizi, abbia come luce e come riferimento essenziale i nostri articoli della carta costituzionale. Per la prima volta della storia dei rapporti tra paesi europei, due ministri degli esteri hanno inserito in conversazioni ufficiali l'argomento droga. Dal 75 agli anni 80 il fenomeno eroina diventa endemico. L'eroina insidia silenziosamente una generazione che non sa nulla dei reali effetti letali della sostanza. Nessuno ne parla in modo chiaro, nessun giornale, nessuna tv e tantomeno le istituzioni. L'assessore alla sanità di Roma e le strutture sanitarie diffondono proclami contro la marijuana ma nessuna informazione è diffusa capillarmente contro gli effetti dell'eroina. I giovani, terrorizzati dalla stampa sulle droghe leggere, si avvicinano senza troppe remori al buco in vena. A Roma nel 70 non c'è nemmeno un tossico dipendente da eroina. Nel 74 a Udine muore il primo ragazzo. Nel 75 iniziano a contarsi i primi morti. Due anni dopo le morti sono triplicate. Nel 77 il numero sale ancora di altre 40. I consumatori sono circa 20.000. È un'escalation continua. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 quasi ogni famiglia romana ha un familiare o un amico coinvolto. Da Bolzano a Palermo le province sono invasi, la polvere bianca è ovunque. A metà degli anni 80 i tossicodipendenti da eroina in Italia toccano circa 300.000 con un giro d'affari di presso a poco 3.000 miliardi di lire annui, lasciando sulla strada nel corso degli anni migliaia di morti e decine di migliaia di disagiati. È una strage, una catastrofe dalla quale non si torna indietro. L'operazione Blue Moon è compiuta. Io ho avuto la tristezza di aver perduto un caro amico per via dell'eroina e il mio rammarico è che se ce ne fossimo accordi prima, penso con un intervento di sostegno, di affetto, di amicizia, avremmo potuto aiutarlo a uscire. Questo è un grande rammarico che mi resta. Andrea Pazienza, disegnatore tra i più geniali, una vita di meraviglie e di eccessi. Matita magica dell'illustrazione di ogni genere, provocatore fantasioso, la voglia di vivere stroncata da un overdose a 28 anni, quando è già un mito. Mario Schifano, artista tra i più stimati, cade nella dipendenza dall'eroina e per un breve periodo viene rinchiuso in un manicomio. Ce ne sono tanti in quel periodo e nel tempo che verrà. Caddero moltissimi, anche quelli che avevano coltivato contro informazione. Posso confermare che uno dei fondatori di stampa alternativa, anzi uno di coloro che inventò insieme a me e a pochi altri il nome stesso, il marchio che era la foglia di meraviglie, si impiccò in preda alla depressione, alla disperazione per il consumo dissennato di eroina. Nessuno conosceva dei rimedi contro l'astinenza. C'era chi provava autonomamente con disperati interventi di pronto soccorso domestico, poiché il sistema sanitario nazionale non offriva alcun tipo di cura adeguata. Insomma, la possibilità di intervenire utilmente con i tossicodipendenti è veramente semplice. Siamo nel 1977 circa, in una situazione di eroina molto drammatica in cui insieme con una collega facevamo un intervento domiciliare. Il padre pagò i debiti del figlio prendendo in consegna, siamo l'eroina che era di basta e organizziamo con lui uno stalaggio artigianale facendo le dosi in casa, noi insieme al padre. Le strade dei quartieri romani si popolano di fantasmi, ragazzi che smarriscono prima la loro identità e progressivamente qualsiasi contatto con la realtà. Il lavoro, lo studio e l'attivismo politico vengono soppiantati dalla famelica e forsennata ricerca dell'eroina che diventa l'unica ragione di vita. È proprio in questi anni che inizia a porsi il problema del rapporto tra militanza e droga. Nel panorama politico del tempo poi, che a Roma aveva una forte presenza di organizzazioni extraparlamentari, si chiamavano allora, c'erano organizzazioni dialettiche come lotta continua per esempio, cercavano un rapporto, cercavano di recuperare in qualche misura le tossicodipendenze e i tossicodipendenti, poi c'erano gli autonomi che sprangavano indifferentemente spacciatori e consumatori e poi c'erano i vecchi ML, i vecchi di tradizione marxista-linista dal manifesto fino a gruppuscoli come Praxis, fino alla vanguardia operaia, al movimento lavoratore per il socialismo, che con molta rigidità ideologica ma con qualche fondamento ritenevano giustamente che il consumo di eroina fosse qualcosa che ti allontana dalla politica dall'impegno e quindi loro dicevano un alleato del capitale. Da una parte una gabbina di regia di destra, reazionaria, volutamente di disinformazione, di manipolazione dell'informazione. Dall'altra una gabbina non di regia, una suefazione e una paura di trattare l'argomento da parte della sinistra ufficiale, il Partito Comunista e il resto della sinistra. Paura di esplorare un terreno che non sentivano loro e quindi appiattirsi alla disinformazione della destra. Pochissime persone sono riuscite ad uscirne fuori, forse ne conosco io una, su 10.000 persone a Roma, ragazzi che useranno la roba, ne conosco una ma non ne sono sicuro perché. Io penso che sia, cioè per noi che ne stiamo dentro uscirne è una delle più grandi, grandi vittorie proprio, una cosa impensabile ecco, non so perché, cioè a questo nostro trama ci sono due soluzioni, non solo la morte, cioè a un certo punto muori e allora smetti perché cioè muori e non se ne parla più perché sennò c'è la siringa che è diventata l'incubo di questa, della vita proprio. Non c'era una conoscenza diciamo almeno diffusa rispetto ai pericoli e rischi delle droghe pesanti e segnatamente della eroina. E noi stessi non sapevamo bene, anche se vedevamo diciamo gli effetti devastanti, quale portata fosse in caso di determinare. La stragrande maggioranza della popolazione aveva accettato le idee diffuse dalla stampa. Il 50% riteneva che individui a tratti della droga fossero omosessuali, il 34% dei giovani tra i 16 e i 20 anni credeva che la marijuana fosse la droga più pericolosa in assoluto. È questa la generazione confusa e disinformata predestinata al buco dell'eroina. I giornali all'epoca, credo, mi fermo all'epoca, erano sicuramente veicoli delle varie posizioni politiche. Peraltro va considerato che i giornali venivano foraggiati e abbondantemente con divise estere di vario colore. La mancanza di cultura scientifica delle sostanze che fa avvenire il disastro. Un paese ostaggio di dissenati di lotta armata che obbligavano la società civile a blindarsi, ad aver paura di uscire di casa. Io ero la di tante e giravo, c'erano posti di blocco dappertutto e quindi fa precipitare nella solitudine un movimento di giovani, di alternatività e quindi ecco che l'eroina, a partire da una gabbina di regia, di disfacimento del movimento, la fa da padrona. Il filo rosso che lega l'operazione Blomoon all'Italia è intricato e fitto di trame. È una storia fatta di specialisti di montature e falsi blitz, di campagne mediatiche create ad arte, di finte agenzie di stampa che in realtà sono dei veri e propri centri di addestramento, di uffici di guerra psicologica coinvolti nella strategia della tensione, di personaggi dalle mille identità infiltrati in gruppi eversivi, di condizioni create a tavolino per l'arrivo a Roma dell'eroina. Tutto questo conflusce in Italia tra il 1968 e il 1975 e ha un nome preciso, operazioni Blomoon. L'effetto dell'eroina in vena dura 4-5-6 ore, dopo si tende ad averlo di nuovo riprovando ed è ancora sul piano psicologico, dopo 2-3 giorni comincia una dipendenza fisica, nel senso che in mancanza di altra eroina si sperimenta la sindrome di Kreving, si chiama, uno stato di malessere fisico molto molto drammatico, con una sudorazione profusa, dolori muscolari e un'impazienza psicofisica, un'inquietudine sempre più più violenta. Sono finiti a morire, cioè sono incoglioniti del tutto. Se io conosco uno per esempio che sei rincoglionito del tutto, ha fatto ero, sei rincoglionito del tutto, cioè questo io non l'accetto nemmeno, cioè questo tipo qua ha bucato eroina per un anno, dopo un anno non ce la faceva più, è stato in un manicomio rinchiuso con la vagi del sangue ogni tanto. Comunque è probabile che questa trasmissione, noi che ci siamo stati intervistando non servirà a nessuno e voi lo sapete bene, cioè quando questa trasmissione verrà messa in onda nelle case, alla famigliola davanti al televisore, non gliene fregherà niente, il bambino dirà guarda gli hippie, mentre il padre continuerà a mangiare e la madre lavarà i piatti, non servirà niente, non cambierà niente. L'eroina è un monopolio dei fascisti perché mantendo l'eroina sul mercato distruggono tanti giovani che un giorno potrebbero lottare contro questo sistema. I progetti anche fantasiosi se ne fanno tanti, bisogna vedere poi quelli che si realizzano, quelli che riescono. Di solito noi parliamo di complotto quando non sappiamo niente, quando le cose riescono parliamo di storia, anche se alle spalle c'era un complotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.